Crisi e verità, l'intervista di Chiara Ferragni a che tempo che fa. Sei pronto per scoprire tutti i retroscena dell'intervista di Chiara Ferragni a che tempo che fa? È stato un momento atteso come un grande evento televisivo, che ha visto la fashion blog e imprenditrice italiana affrontare temi delicati e personali insieme a Fabio Fazio. Dalla questione dei pandori e della beneficenza, alle critiche e agli attacchi ricevuti sui social, Chiara Ferragni si è aperta sinceramente riguardo alla ondata di odio che ha dovuto affrontare. Ha parlato della difficoltà di gestire l'odio e la violenza verbale provenienti da critiche e attacchi pesanti. Durante l'intervista, è emerso anche il caso Balocco, che ha sollevato domande sulla comunicazione e la trasparenza delle sue attività. Chiara Ferragni ha risposto con sincerità, ammettendo eventuali errori e fraintendimenti, senza nascondersi dietro le polemiche. Ma il momento più toccante è stato quando si è parlato della separazione tra lei e Fedez. Chiara ha dichiarato che non si tratta di una strategia di comunicazione, ma di una situazione reale. Ha ringraziato i suoi sostenitori per il sostegno ricevuto e ha aperto alla possibilità di un ritorno con il rapper. Chiara Ferragni ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando la difficoltà di essere autentici sui social e di gestire la privacy in una relazione così esposta. Ha ammesso che la crisi attuale è più intensa rispetto a quelle passate, lasciando aperta la porta a un futuro incerto. In conclusione, l'intervista di Chiara Ferragni ha che tempo che fa ha svelato molti dettagli intimi della sua vita e della sua relazione con Fedez. È stato un momento di sincerità e trasparenza, che ha fatto riflettere sulle dinamiche delle coppie famose e sulla pressione mediatica che devono affrontare. E tu, cosa ne pensi di questa intervista? Speriamo che la situazione si risolva nel migliore dei modi.